Buongiorno a tutti, io sono una delle insegnanti che si occuperà di seguire i vostri bambini durante tutto l'anno scolastico per risolvere insieme qualsiasi dubbio e approfondire i programmi. Oggi andremo a vedere insieme un po' di food vocabulary, ovvero il vocabolario del cibo. This is an egg, questo è un uovo. These are onions, queste sono cipolle. This is cheese, questo è formaggio. This is garlic, questo è l'aglio. This is a tomato, questo è un pomodoro. This is ham, questo è il prosciutto. This is pepper, questo è un peperone. These are mushrooms, questi sono funghi. This is milk, questo è il latte. This is a zucchini, questa è una zucchina.